Ieri c'è stata una grande manifestazione per la lezione che c'è stata alla sapienza di Mimmo Lucano e d'altra parte c'è un po' di nervosismo da parte di Salvini per le contestazioni rispetto ai suoi commissi. Sta cambiando qualcosa in questo elettorale? Allora, grandissima solidarietà e vicinanza che ho espresso da tempi quando ancora pochi lo conoscevano a Mimmo Lucano. Grandissimo sostegno all'iniziativa di Papa Francesco sul diritto all'abitare e trovo ossessiva questa repressione del dissenso di dunque si permette di fare un selfie contrario con Salvini così come togliere gli striscioni. Insomma, vedo che a tronna Salvini si comincia un pochino a intravedere quei prodrumi dello Stato autoritario che Salvini vorrebbe iniettare nel nostro Paese. Ma il nostro Paese ha la capacità democratica di reagire e questo tentativo sarà respetto.